musica 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 abbiamo rifatto tutto il campo musica che spazio 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 perché giustamente era in balia non era più di nessuno prendiamo anche quella facciamo anche quella cerchiamo di fare le cose fatte bene fatte per la gente che oggi ci lavorano 35 persone in sede che lavorano bene che fanno le cose che cercano di portare avanti le attività e voi io 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 loro io 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 Grazie. Grazie. Grazie.